Il cortile dei gentili di sua natura risponde forse a una componente che era caratteristica della Chiesa delle Origini e che veniva espressa con un termine greco che ormai è diventato anche abbastanza comune nel mondo ecclesiale che è la parola kerigma, cioè la parola annuncio l'annuncio di base che viene fatto in un orizzonte che è lontano che forse si interessa solo vagamente di Dio o che forse attende anche qualche voce ulteriore l'immagine forse più incisiva è quella che noi abbiamo all'Europago di Atene da parte di Paolo quando Paolo usando anche la cultura contemporanea i poeti e gli scrittori greci cerca di annunciare l'Evangelo c'è una reazione evidentemente all'annuncio cristiano ma c'è anche un'adesione che sarà espressa da figure significative questo è un po' il nostro percorso Besides traditional and perennially valid pastoral methods the Church seeks to adopt new methods developing new languages attuned to the different world cultures proposing the truth of Christ with an attitude of dialogue and friendship rooted in God who is love In various parts of the world the Church has already set out on this path of pastoral creativity so as to bring back those who have drifted away or are seeking the meaning of life happiness and ultimately God Non c'è dubbio che il Signore buon pastore benedirà abbondantemente tali sforzi We may recall some important city missions like the Courtyard of the Gentiles the Continental Mission and so on There is no doubt that the Lord the Good Shepherd will abundantly bless these efforts which proceed from zeal for his person and his gospel Dear brothers and sisters Bartimaeus, after regaining his sight from Jesus joined the crowd of disciples which must certainly have included others like him who had been healed by the Master New evangelizers are like that people who have had the experience of being healed by God through Jesus Christ and characteristic of them all is a joyful heart that cries out with the psalmist What marvels the Lord has worked for us Indeed, we are glad His sake is indeed suppressing the Lord Oro I am not even sure